Contigia una dichiarazione a caldo? Una dichiarazione a caldo, io arrivo da Lecco sudatissimo, felicissimo, è stata la vittoria di un gruppo di persone che ci hanno creduto e devo ringraziare gli elettori e le elettrici di Ballabio, un voto intelligente, un voto dato alla continuità se vogliamo, ho un'eredità gravissima, importantissima quella di Luca, grazie.